Esatto amici, Master Rhino ritorna sull'arca, vai con la sigla! Ciao a tutti amici del branco, io sono Noah e oggi siamo nel... Raga non mi ricordo se siamo al ventesimo episodio o al diciannovesimo, vabbè comunque sia, siamo arrivati intorno ai venti episodi, nonostante la serie non sia andata benissimo, comunque sia vedo che ad alcuni di voi piace e per quelli alcuni la porto avanti. E se potete magari diffondere anche voi la voce e diffondere un po' questa serie, stareste di aiuto a me per il canale e anche per questi animali, perché oggi siamo qui per parlare dei cammelli e per quanto tanti se ne siano sbattuti perché ce ne sono un casino nel mondo, il cammello battriano è specie a rischio, o meglio, sono un casino nel mondo i cammelli domestici, ma il cammello battriano è messo veramente veramente male. Quindi io opterei per iniziare subito a parlarne, mi raccomando, commentino, like, iscrizione al canale e iniziamo subito a parlare dei nostri cari cammelli. Allora il cammello, lo dice il nome stesso, è un camelide, a quale animale appartengono i camelidi? Cammello, dromedario, lama, alpaca, vigogni, guanachi. Allora, vengono allevati in Asia Centrale e ci sono anche allo Stato Brado, pochissimi ma ci sono, e sono allevati per carne, grasso, latte, lana e trasporto. E infatti quelli in Mongolia sono quasi tutti i cammelli addomesticati, e anche in Cina e anche nel deserto del Gobi. Qualche centinaia di individui, e basta, sono in natura, quindi è una specie molto molto rinacciata. È una specie che, allora, il camelide è più grosso, infatti può raggiungere i due metri d'altezza, a volte addirittura tre sulla punta delle gobbe, e il loro peso va dai 400 ai 500 kg. Quindi è un po' più di un cavallo, ecco. O meglio, non lo so. E raggiunge anche i 3-4 metri di lunghezza. Il pelo è molto folto, più del dromedario, e infatti è anche più lungo sotto al collo. Le gobbe, a differenza di quanto si pensi, non sono piene d'acqua, ma bensì di grasso. Infatti conserva cibo durante le carestie per le lunghe traversate nel deserto. E a differenza di quelle del dromedario che, quando si svuotano, si abbassano, quelle del cammello invece si afflosciano. E niente, si riempiranno poi di nuovo, inserendoci, ingerendo cibo, acqua e quant'altro. Vivono in zone desertiche, semidesertiche e steppose, in area centrale, in Anatolia e in Mongolia. Sono stati introdotti anche in Italia e nell'epoca romana, come animali da Soma, da guerra e da carico. E attualmente ci sono un sacco in parchi e circhi. Parchi ok, circhi no. No, grazie. I cammelli vanno liberati. Cioè, liberati. Ho tenuto in bioparchi, in fattorie o in natura, perché... I cammelli non sono animali da spettacolo, ma nessuno lo è. Io proporrei anche di evitare di usarli come animali da lavoro, ma... Posso capire dove magari non hanno altro. Metti i carichi che sono un sacco di... Tipo delle ceste, con della frutta, della verdura, ce la fa. Però, se si può evitare, si evita, dato che esistono i mezzi. Nel confine tra la Cina e la Mongolia c'è un piccolo gruppo di cammelli selvatici. E sono stati contati 900 nel 2009. Ora la situazione è un pochino cambiata. E però vanno aiutati un casino, perché è in stato critico, come diverse altre specie. E infatti sono veramente poche 900 individui per salvare una specie. Quindi ne servono molti di più. E non si può incrociare col cammello domestico. Cioè, si può. Ma l'individuo che nascerebbe sarebbe sterile. Infatti, sono un po' diversi. Perché infatti i cammelli selvatici hanno un numero diverso di cromosomi. Infatti è per quello che nascerebbe il piccolo sterile. E infatti danno... Allora, qua ci sono possibili diversi incroci. Cammello selvatico con cammello domestico o con dromedario dà individui sterili. Se invece è dromedario e cammello domestico, gli individui saranno fertili. E potranno avere appunto figli a loro volta e continuare la stirpe. Ma per quanto riguarda il cammello selvatico, invece no. Quello saranno sterili se si incrociano. E nulla. Quello selvatico è più piccolo rispetto a quello domestico. Anche perché quello domestico viene utilizzato anche per il lavoro. Ha una scheletratura più leggera. Ha un pelo più corto e più chiaro. Le mandri sono composte da 20 femmine con a capo maschio. Quando ci sono, anche i cuccioli. E le gobbe sono più piccole e più coniche e appuntite rispetto a quello domestico. E' un animale molto forte, come ho detto, per questo viene utilizzato come animale da lavoro. Infatti può portare anche 450 kg, che equivale più o meno al suo stesso peso. E il che non è affatto poco. E oltre alla forza, ha anche un'ottima resistenza alla fame e anche alle traversate. E può stare anche diverso tempo senza acqua. Allora, come ho detto, sono animali molto veloci. E infatti possono camminare anche a 45 km orari. E anche per un giorno, cioè 24 ore di fila. E sfido chiunque a farcela. Non ce la fate. E infatti possono percorrere in un solo giorno anche 50 km. E quando si trovano a delle pozze dell'acqua per bere, possono ingerire fino a 150 litri d'acqua. Il che equivale a quasi un terzo del loro peso. Quindi possono bere anche veramente tanto. E altra cosa, il loro latte, per quanto vengono allevati per il latte, non può essere cagliato. Non ci si può fare il formaggio. Perché loro devono sopportare sbalzi di temperatura molto alti. Da meno 20 gradi fino a 50 gradi. E il latte, tipo quello di capra, di mucca, così. Dopo i 37 gradi, caglia. Mentre quello del cammello non può cagliargli nelle mammelle. Altrimenti coserebbe problemi a lei e al piccolo. E infatti la gestazione del piccolo dura un po' di più rispetto ai cavalli. E così infatti dura 13 mesi. E solitamente un solo cucciolo per parto. Sono presenti i svariati parchi in Italia. Come ho già detto, infatti, le cornelle ne ha tre. Ovvero Mia, Vulne e Lamu. E poi sono presenti anche al Parco Natura Viva. Sono presenti anche a Zuntorino. E anche in alcune fattorie didattiche. Quindi se volete vedere un cammello non c'è difficoltà. Li potete vedere praticamente ovunque. Infatti i cammelli sono abbastanza diffusi. Quelli domestici. Però quelli selvatici, ovvero il cammello battriano o cammello della battria, è molto molto a rischio. In quanto siano stati cacciati, siano stati uccisi, siano distrutti il loro habitat, siano stati bonificati le zone dove vivono. E quindi per questo il cammello battriano, nonostante venga parecchio parecchio tralasciato, è a rischio e va aiutato. Perché sono messi peggio addirittura di rinoceronti, elefanti, tigri, leoni, quegli animali che sono a rischio. Perché una persona dice ma in cattività ce n'è un casino. Ok, in cattività ce n'è un casino ma non è la stessa specie. Quello battriano e quello domestico sono due cose diverse. Quindi va aiutato, serve aiuto, serve tenere alta l'attenzione. E non ucciderli come hanno fatto quelli in Australia perché ho capito che erano sia dromedari che cammelli. E niente ragazzi, voi mi raccomando lasciate un commento a un mi piace. Secondo me il cammello è veramente un bel animale anche se è parecchio sottovalutato. Voi mi raccomando lasciate tanti like, almeno 15 like per i nostri bellissimi cacacacammelli. E ci vediamo nel prossimo episodio da Namaste Rhyno e cammelli è tutto. Ciampi del branco! Accorto dai!